Cara Antonella, vent'anni della linea scritta, auguri e complimenti. Prima volevo farti i miei complimenti perché Antonella Cilento, prima di diventare mia amica, l'amiro moltissimo come scrittrice, soprattutto l'autrice di Non è il paradiso, dove dice ciò che di solito gli scrittori non dicono, e dunque è diventata una Matilde Serao contemporanea, brava e coraggiosa, e poi con Lisario, che mi sembra una rivisitazione brillante della tradizione di Basile, e dove la Cilento diventa una ortese limpida e chiara, riesce a fare, secondo me, un romanzo indimenticabile. Ma poi la linea scritta è un progetto che compie vent'anni, una realtà solida, è un sogno a Napoli durare vent'anni con un progetto culturale. E io se parlo della linea scritta, soprattutto devo parlare di uno dei suoi progetti, di strane coppie, perché Antonella Cilento ha avuto la visione di pensare a che servono le istituzioni europee a Napoli, si è rivolta agli istituti culturali europei per creare questo progetto meraviglioso, dove Napoli diventa di nuovo capitale europea. Se accettiamo che nel 1799 Napoli è uscita dal treno della storia europea, Antonella Cilento fa il suo contributo per ricollegare Napoli al meglio della cultura europea con questo progetto che io ho seguito molto da vicino, che ammiro e che spero vedere per tanti anni. Dunque Antonella, a te, a Paolo, a Iole, alla tua squadra, complimenti e ci vediamo nei prossimi vent'anni con tante cose belle come hai fatto negli ultimi vent'anni. Un bacio enorme. Ciao.